su raga sono valentina lattanzio e buon natale a tutti no scherzo non è ancora natale oggi voglio realizzare un make up fatto tutto di glitter quindi diciamo che sembrerò tipo una pallina di natale creata in casa utilizzerò allora questi glitter che sono praticamente 450 grammi bellissimi l'altro giorno addirittura ho provato a infilarci dentro la mano mamma mia non potete capire quanto è rilassante stupendi quindi indosserò questi che saranno tipo la base della nostra pallina di natale no vabbè lo userò tipo come fondotinta e poi andrò a metterci sopra tutti questi glitter che sono fantastici raga guardate che belli questi sono tipo sul violetto questi sul rosa poi ne abbiamo altri tipo questi oro e questi fucsia che sono un po' più grandi vedete che sono tipo delle paillettes e questi tipo questi rosa li voglio indossare o sugli occhi o sulle labbra perché sicuramente l'effetto sarà fantastico so già di fare tipo un po' di danni sicuramente ecco le imprese ogni volta non riesco a dividere voglio provare a mischiare la vaselina con questi brillantini perché magari poi diventano tipo a mo' di crema così riesco a spargerli meglio sulla faccia sono bellissimi è troppo rilassante infilarci dentro la mano ok ci sono già brillantini ovunque adesso andiamo a prendere la vaselina come la prendo? uso tipo questo pennellino bella ma questa è quella che hanno usato luca e katy nel video che era tutto fluo stupendo ok adesso andiamo a mischiare bellissimo ma il risultato non è come me l'aspettavo io me l'aspettavo molto più liquido non lo so adesso provo ad andare a fare la base io questo lo uso tipo come se fosse un fondo tinta vediamo mi partono tipo pezzi di brillantini ovunque wow no ho i faragioni raga guardate vedete che è diventato tipo colla glitterata spargiamo per bene stupendo raga guardate già come sta venendo sembro già una pallina di natale da appendere sull'albero no? boh che chifo anzi no li logro e le faccio alla fine perché se no vuoi di farlo me li mangio tutti sembra tipo una maschera facciale tutta glitterata adesso andiamo a metterla qua sulla fronte adesso lo passo sull'occhio vado 3, 2, 1 altro che illuminante raga sono un illuminante unico adesso voglio fare la cavolata ma c'ho anche il maglioncino tutto pulito raga tutti i glitter che mi sono appena versate in faccia sono super argento adesso quelli che avevo nel piatto li metto da quest'altra parte anzi ci appoggio direttamente dentro la faccia 1, 2, 3 wow no no anche il mento allora wow no vabbè anche qua sotto un po' questo è il risultato è fantastico non mi aspettavo una cosa del genere iniziamo il capolavoro con tutti questi glitter iniziamo dal rosino perché sarà il nostro blush praticamente questi glitter sono mischiati ad altre pagliettine oro con il nostro dito andiamo ad appoggiare tutti questi glitter rosini qua devo fare proprio la sfumatura perfetta proprio come se avessi il blush un pochino stanno entrando in bocca adesso faccio così li attacco tutti adesso ne andiamo a mettere un po' di più sapete qua io devo sempre esagerare col trucco e adesso andiamo a metterlo dall'altra parte sicuramente io dopo per levare tutti questi strati di glitter ci metterò tantissimo perché l'altro giorno ho provato praticamente a truccarmi soltanto gli occhi con questi glitter ragazzi ho messo 10 minuti soltanto per truccarmi un occhio e mi è uscito malissimo perché comunque questi glitter vanno ovunque erano proprio impossibili da levare andiamo ad aggiungere altro blush abbiamo finito non sembra che sono truccata con i glitter sembra che sono truccata tipo con trucchi normali più o meno no eh adesso andiamo a fare gli occhi e utilizzerò questi due glitter all'interno dell'occhio utilizzerò il grigio mentre all'esterno andrò ad utilizzare questo violetto lilla andiamo ad applicarli qua ma si vedono oppure si mischiano con quelli argento andiamo a mischiare il blu perché il grigio si mimetizza con tutti gli altri nostri glitter argento proviamo a vedere il risultato no ragazzi guardate che tutti i glitter che avevo qua attorno se ne stanno andando e rimane praticamente la forma delle mie sarise adesso andiamo ad aggiungere altro viola andiamo ad aggiungerlo qua che bello raga sta venendo benissimo voglio aggiungere un po' di azzurrino in mezzo qua per dare quel punto luce anche se sono praticamente un punto luce unico guardate che bello che è questo azzurrino è stupendo e li aggiungo quindi qua in mezzo specchiamoci voglio vedere abbiamo appena finito di fare gli occhi e ci mancano le nostre sopracciglia però e le voglio fare con con queste paillettes sono bellissime e molto particolari perché non sono soltanto fucsia oppure brillantini normali ma sono tipo delle paillette un po' più grosse e quindi sono perfette per le nostre sopracciglia devo un attimo ribagnarle qua così perché sennò i glitter rosa non si appiccicano andiamo a mettere le nostre paillette ma non è che mi rimangono proprio attaccate attaccate eeeh come faccio io vado col dito col dito funziona sempre tutto mi usciranno tipo delle sopracciglia giganti vabbè no eh raga adesso le andrò ad attaccare con la pinzetta perché sennò mi esce un casino e non riesco a fare le sopracciglia e il fatto è che ne attacco una me ne cadono altre due ok quelle che ho attaccato sulla palpebra le vado a mettere su le sopracciglia wow raga sono fantastiche queste paillette le adoro cavolo ma non rimangono ah si 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 devo mettere altri un po' qua ho provato questa serie di glitter tutti attaccati e sono perfetti per le mie sopracciglia quindi devo andare ad attaccare tutto questo pezzettone qua alla fine li attacco con le dita che faccio prima ok raga prima sopracciglia l'ho fatta con pezzi di sopracciglio che cadono ovunque adesso vado a fare l'altra cade cade cadono tutti cioè sono più quelli che cadono raga abbiamo appena finito di fare le nostre sopracciglia guardate che belle anche la sfumatura che ho fatto sugli occhi stupenda adesso andiamo a mettere il nostro amato rossetto questa volta lo vado a mettere rosso bel rosso natalizio visto che ormai è il periodo di natale infatti vedete il mio set ho messo tutte queste lucine fantasche solo che non si vedono molto voi le vedete raga commentate qua sotto se le vedete adesso dovrei levare i rilantini che ho sulla bocca prima però io direi di sistemare tutto il contorno labbra perchè è andato via tutto uno o due fantastico mettiamo un po' di colla qua sulle Laura perchè adesso andiamo a mettere il rossetto rossetto che in realtà non è rossetto ahahah 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 vado a mettere il glitter qua sulle labbra raga non potete capire ce l'ho pure sui denti ahahah ahahah dobbiamo ricorrere perfettamente tutte le varra raga abbiamo messo il rossetto che bello raga è uscito benissimo come vi pare questa pallina di natale io sto un po' male perchè ho ricaventi tutti i glitter qua raga si vedono tantissimo il risultato è bellissimo cioè è molto strano sembro un illuminante vivente stupendo la parte che mi è venuta meglio secondo me è tipo il blush perchè l'ho sfumato bene bene con tutti gli altri glitter un po' colorati adesso vado a strucarmi perchè non ce la faccio più io devo assolutamente lavarmi i denti sono ricoperta di brillantini ovunque non solo sulla faccia non solo in bocca anche sui pantaloni sulla maglietta ovunque dovete vedere tipo qua attorno il casino che ho fatto è tutto sporchissimo se vi è piaciuto questo video commentate qua sotto e scrivete quale dei glitter vi è piaciuto di più io ne adoro tantissimo soprattutto quelli su rosa e soprattutto anche quelli viola che ho utilizzato qua per fare le sopracciglia perchè sono stupendi e super glamour seguitemi su tutti i social quindi su instagram e qua su youtube perchè pubblico un sacco di video e spuntate la campanella perchè così ogni volta che pubblico un video vi arriverà una piccola notifica sì 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 sì